Ecco, io prima di iniziare dicevo questa seconda parte, magari sollecitato anche da qualcuno che me l'ha chiesto, facciamo qualche notiziola così che serve anche per inquadrare ancora meglio di chi e di che cosa stiamo parlando. Portogallo, intanto dicevamo prima i Galli non c'entrano niente, Portugale era una cittadina dei Romani alla foce del fiume Duro e Portugale, Portucal, Portugal è diventato Portogallo. Anche se il Portogallo è la Lusitania, cioè i Romani si sono spinti fin là, lì c'erano i Lusitani e chiaramente come tutte le conquiste romane lì si inizia a parlare latino, ognuno parla latino come crede e quindi chiaramente quando poi i Romani cedono il passo alle invasioni barbariche, in Portogallo arrivano tra i vari barbari i Visigoti e i Visigoti chiaramente parlano il latino storpiato e se vi siete accorti, per esempio si dice Saramagu, tutto ciò che finisce in No è un Au, o per esempio il finale Al è un Au, sapete che il portoghese è tutto e quindi è un po' per quel modo di pronunciare dei Visigoti. Pensate che i Visigoti praticamente è l'ultimo regno Visigoto, sarà proprio in Portogallo, I Visigoti rimarranno lì fino al 700 d.C., quando arrivano i Mori, gli Arabi, che conquistano tutta la penisola iberica. Per capire un po' meglio il periodo però del Portogallo, di quando nasce e vive il nostro Saramagu, vi posso consigliare due cose che mi sono venute in mente così stanotte quando non dormivo. Uno è un bellissimo film, Treno di notte per Lisbona, un film del 2013 con Jeremy Irons, che è tratto da un romanzo di Pascal Mercier che si intitola Treno di notte per Lisbona e che vi fa capire l'atmosfera pesante della dittatura di Salazar e quell'atmosfera che ha vissuto sulla sua pelle proprio Saramagu e che è finita, come sappiamo tutti, con la rivoluzione del 1974. E sempre per capire il periodo c'è un altro libro imprescindibile che è del nostro Antonio Tabucchi, che si chiama Sostiene Pereira, anche questo famosissimo, anche perché poi nel 1995 ne è stato tratto un film con Marcello Mastroianni, mi sembra che sia uno degli ultimi film di Mastroianni e quindi se volete capire un po' meglio il Portogallo, queste sono due tappe quasi obbligate. Per quanto riguarda il nostro José Saramagu, José intanto vuol dire Giuseppe, si chiama come me, e Saramagu è abbastanza buffo, non ve l'ho detto ieri ma mi piacerebbe condividervelo, lui di cognome fa de Sousa, i cognomi portoghesi sono molto ricorrenti, i portoghesi dicono che alla fin fine si conoscono tutti o sono tutti imparentati tra di loro, e questo de Sousa è proprio il cognome della sua famiglia. Però quando il padre nasce, questo José, e va all'anagrafe per registrarlo, l'impiegato dell'anagrafe è già sera e ha passato tutto il giorno a registrare bambini de Sousa, e quindi ha uno sbotto quasi di Ira che dice un altro de Sousa anche stasera. E allora per così interrompere la monotonia, registra il bimbo José de Sousa Saramagu. Saramagu è nel dialetto di Asignaga, cioè del paese dove poi è nato e dove viveva inizialmente la famiglia de Sousa, è un'erba selvatica, un cespuglio selvatico, un'erba appunto selvaggia che viene estirpata dai campi perché è infestante appunto. E quindi gli mette questo nome, Saramagu, quasi come dire è un'altra di queste erbacce che è arrivata. E poi invece quel Saramagu, quell'oscuro impiegato dell'anagrafe, ha di fatto inventato un nuovo cognome. Addirittura il cognome che il nostro José adatterà fin da subito, oscurando di fatto il de Sousa. Quindi non ci si ricorda più del suo vero cognome d'origine, ma ha questo secondo cognome che gli ha messo questo scuro impiegato dell'anagrafe. Ecco, niente, questa era una piccola particolarità, ma dobbiamo ritornare al nostro. Ieri abbiamo visto i suoi inizi e Saramagu di fatto si è fin da subito presentato come uno scrittore tardivo. Dicevamo che ha iniziato a 60 anni a scrivere. Ho un'opinione sulla quale non sarà d'accordo la maggior parte degli scrittori. E cioè, e lo dico veramente perché io lo credo, scrivere è un dannato lavoro. Scrivere è un lavoro e come ogni altro lavoro deve essere fatto bene. Bisogna farlo bene. Tutto quello che è sublimato a proposito della missione dello scrivere, della scrittura in sé stessa, mi sembra inutile, che non ne valga la pena. Noi scrittori facciamo un lavoro, alcuni meglio di altri, e questa è la nostra unica missione. Non rendiamo la scrittura una cosa sacra, perché se rendiamo sacra la scrittura dovremmo anche considerare sacro un paio di scarpe che ha fatto il calzolaio, perché anche quello è un dannato lavoro. Così Saramagu appunto rifletteva in un'intervista sul mestiere di scrivere. E scrivere, come lui diceva, è un lavoro, un lavoro da artigiano, di Cesello, di Lima, perché dopo aver trovato nella scrittura il suo stile anche particolare, aveva ormai votato la sua intera produzione letteraria a quell'impegno civile, politico e morale che lo caratterizzerà. Ed è proprio di questo impegno che si costituisce la sua produzione teatrale, molto limitata, limitata a poche opere, di cui la più famosa è proprio del 1987, si intitola La seconda vita di Francesco d'Assisi, dove lui immagina che il santo torni tra i vivi, ma nel mondo contemporaneo, e si trova alle prese con grosse incomprensioni, addirittura con lo stesso ordine che lui ha fondato. Quindi anche nel teatro, così come nei romanzi, Saramagu gioca continuamente tra la realtà storica e l'invenzione, passando con facilità da un secolo all'altro, da un paese all'altro. E lui esplora anche in queste poche pièce teatrali, proprio questi ambienti storici diversi, per mettere un po' alla berlina, cose che gli piaceva molto anche la religione, soprattutto la religione cattolica. Oltre a questa opera su San Francesco, nel 1978 esce La notte, poi segue e La notte parla della redazione di un giornale durante la rivoluzione portoghese del 1974, la famosa rivoluzione dei Garofani. Nell'80, Cosa ne farò di questo libro? Che al di là del titolo è un'opera teatrale, ci porta indietro di quattro secoli, nel Portogallo del Cinquecento, e segue le peripezie di Luis Vasto e Camoish, che è il più grande poeta lusitano, nel tentativo di questo poeta di poter dare alle stampe quello che è considerato il suo capolavoro ilusiadi. Mentre poi in Nomine dei, che è del 1993, vede ancora come protagonista la religione, ma nel XVI secolo, dove protestanti e cattolici lavano nel sangue degli autodaffè le loro divergenze dottrinali. Quindi un teatro fantastico, surreale, vicino a quella che è la sua opera, quella che lo contraddistingue come essere molto deciso nel cogliere l'importanza civile, morale e politica di ogni opera letteraria. Come abbiamo detto, era ormai divorziato da molto tempo dalla moglie Ilda, e nel 1988 sposa in seconde nozze Maria del Pilar de Rio Sanchez, quella giornalista che ormai era diventata, oltre che la sua compagna, la traduttrice in spagnolo di tutti i suoi testi. Anche perché, come dico, la traduzione in spagnolo gli aprì molti più lettori, tutto il Sud America e quant'altro, che il portoghese ovviamente è una lingua molto meno diffusa, se non in Brasile ovviamente, e quindi la conoscenza della sua opera è stata facilitata anche dalla traduzione che la moglie ha fatto in spagnolo. Molte delle sue opere partono comunque, forse l'abbiamo già detto, da un essé che conduce un po' a voli di immaginazione da parte dell'autore. E questo essé è proprio il caso di un altro suo bellissimo romanzo che è la storia dell'assedio di Lisbona, in cui Saramago rielabora la storia del Portogallo portandoci a una realtà alternativa, a una specie di deviazione in un universo parallelo che ha cambiato, diciamo, il corso della storia. Cos'è dunque quello che noi consideriamo reale? Soltanto forse un'ipotesi, un capriccio del momento, un semplice tratto di penna che può cambiare completamente la nostra vita, perché, come scrive Saramago, non c'è via di uscita. Viviamo in una stanza chiusa e dipingiamo il mondo e l'universo sulle sue pareti. Il correttore di bozze Raimundo Silva si trova a revisionare la storia dell'assedio di Lisbona del 1147, un libro che ricostruisce il tentativo del re del Portogallo Alfonso Henriquez di riconquistare i territori portoghesi sottratti dai mori più di 300 anni prima, per dar così vita al futuro regno del Portogallo rionificato. Ma durante l'assedio passano da Lisbona i crociati che provengono dal nord e sono diretti in Terra Santa e il re Alfonso chiede loro aiuto per la conquista della città. Raimundo Silva, cedendo a un improvviso quanto inspiegabile impulso, aggiunge un non, un semplice non al testo originale. I crociati non aiuteranno i portoghesi e con quel non cambia la storia ufficiale del Portogallo proprio con quel semplice tratto di penna. A questo punto la direzione lo convoca, Raimundo si trova di fronte non solo il direttore editoriale ma anche una funzionaria che non ha mai visto prima una certa dottoressa Maria Sara che è colpita e quasi affascinata da questo gesto temerario e anziché quindi licenziarlo lo incoraggia a scrivere la sua storia dell'assedio di Lisbona una storia quindi alternativa sfidandolo di fatto a tenere fede a quel non che lui ha aggiunto audacemente e dopo un primo momento di smarrimento il revisore accetta la sfida e così nasce la nuova storia dell'assedio di Lisbona che Raimundo incoraggiato da Maria Sara che diventerà poi la sua amante inizia a scrivere con capitoli dedicati a questa nuova avventura nata proprio a partire semplicemente da un non non è ancora finita per accertare se sia il romanzo che impedisce all'uomo di dimenticare o se sia l'impossibilità di dimenticanza che lo porta a scrivere romanzi tuttavia dopo aver riflettuto su queste discordanze Raimundo Silva ha concluso che l'appurare una verità gli servirebbe a ben poco giacché di questi e altri crociati nobili della prima villani dell'ultima non si sentirà mai più parlare non appena il re avrà fatto il suo discorso poiché a questo sta portando il diniego che si trova registrato in quest'unico esemplare della storia dell'assedio di Lisbona con tutte le sue conseguenze ma visto visto che non si tratta di gente di scarso intelletto tanto più sia aiutata da quella folla di chierici che accompagnano come interpretri e alfieri delle anime per il rifiuto di aiutare i portoghesi nell'assedio e nella presa di Lisbona dovrà esserci stato un motivo serio oppure non si sarebbero presi la briga di sbarcare un centinaio di uomini mentre più di 12.000 aspettano ancora sulle imbarcazioni l'ordine di scendere a terra con armi bauli zaini compresi gli accompagnamenti femminili giunti con le navi di cui un guerriero in nessun caso deve essere privato pur imbarcandosi in battaglie spirituali perché altrimenti come si riposerebbe o consolerebbe il corpo così bisognoso quale sia stato tale motivo è dunque quello che è il momento di appurare per amore della credibilità della verosimiglianza del nuovo racconto per il momento assai scarse andiamo un po' a vedere beh una prima ipotesi potrebbe essere il clima ma crolla immediatamente non si regge giacché è risaputo che gli stranieri senza eccezione adorano questo bel sole questi dolci venticelli questo cielo di un azzurro incomparabile basta osservare che siamo alla fine di giugno ieri è stato il giorno di San Pietro e la città e il fiume era un unico splendore con il dubbio comunque se sotto lo sguardo del Dio dei cristiani o di Allah dei mori a meno che non stessero lì tutte e due a godersi lo spettacolo e a fare scommesse una seconda ipotesi potrebbe essere per esempio un'aridità della terra una siccità dei luoghi una desolazione degli orizzonti ma una cretinata del genere potrebbe concepirla soltanto la mente di chi non conoscesse Lisbona e il suo circondario un verziere che ti rinfranca l'animo guardate tutti quegli orti che si stendono lungo le rive e dello splendente estuario che penetra nella terra in questa baescia adagiata tra la collina dove si erge la città e l'altra di fronte a Ponente dimostrazione perfetta che per gli ortaggi in genere non c'è mano migliore di quella dei mori una terza ipotesi e l'ultima in conclusione sarebbe che stia infuriando da queste parti una fatale pestilenza come quelle che di periodo seminano morte tra queste popolazioni dell'Europa e adiacenti senza eccezione ovviamente per i crociati che per qualche semplice caso endemico non ci sarebbe motivo di spaventarsi ci si abitua a tutto è come vivere in agitazioni aggrappati alle falde di un vulcano insomma sono paragoni spropositati perché in questa terra invece ci sono i terremoti lo sapremo meglio da qui a 600 anni e passa ecco dunque tre ipotesi e non una perlomeno plausibile per cui per quanto ci costi ammetterlo la ragione la causa l'origine il motivo il perché devono essere ricercati e magari trovati nel discorso del re lì e soltanto lì tornerà tornerà dunque Raimundo Silva al suo libro riprenderà la già commentata ringa per rileggerla tra le righe l'ammonderà di escrescenze abbellimenti proliferazioni fino a lasciarla ridotta al tronco e alle ramificazioni principali e allora con un salto acrobatico con uno sforzo di identificazione con la mentalità di uomini con tali nomi origini e attributi sentirà manifestarsi dentro di sé una collera un'indignazione un dispiacere che lo porteranno a dire categorico maestà noi qui non restiamo nonostante questo bel sole che avete queste campagne fertilissime quest'aria pulita questo fiume così bello dove saltano le sardine se ne stia bene vos signoria e che buon pro e che buon pro le faccia addio noi ce ne andiamo Raimundo Silva si è alzato dalla scrivania passeggia nel piccolo spazio libero dello studio va nel corridoio per sfogarsi più facilmente da un nuovo tipo di tensione che lo sta invadendo e pensa pensa a voce alta il problema non è questo anche se tale fosse stata la causa della divergenza tra i crociati e il re la cosa veramente più probabile è che tutto quel conflitto quegli insulti di quei sospetti aiutiamo non aiutiamo avessero alla radice la questione del pagamento dei servizi il re che voleva risparmiare i crociati che volevano ricavarne di più ma il problema che io devo risolvere è diverso quando ho scritto non i crociati se ne sono andati perciò non mi serve a niente cercare una risposta al perché nella storia che chiamano vera devo inventarla io stesso diversa perché possa essere falsa e falsa perché possa essere diversa il Saramago autoditatta e comunista senza voce nel periodo di Salazar non si era mai fatto granché affascinare dalla notorietà conservando anche una schiettezza che spesso sembrava un nobile distacco negli anni 90 abbiamo visto si sta affermando come romanziere con tematiche e stile narrativo del tutto particolari proprio solamente sue e raggiunge la fama la fama internazionale proprio con la storia dell'assedio di Lisbona ma per le sue prese di posizioni sul conflitto medio orientale verrà accusato di antisemitismo soprattutto per la sua presa di posizione a favore dei palestinesi contro lo stato israeliano sarà sicuramente minoritario per tutta la sua produzione l'aspetto di poeta nel 1990 pubblica un'ennesima raccolta di poesie che si intitola l'anno 1993 e ispirandosi un po' alla rivoluzione dei garofani canta la lotta di tutti i popoli in tutti i tempi per la libertà ho cercato di esprimere in questi poemi l'angoscia la paura la speranza di un popolo oppresso che poco a poco vince la rassignazione e organizza la resistenza fino a quella battaglia decisiva che è la ripresa della vita pagata al prezzo di migliaia di morti probabilmente per necessità contingenti non ultima quella di tenere vivo il suo nome sulla scena letteraria si propose anche come saggista editorialista e anche perché no viaggiatore lui portoghese decide di viaggiare in lungo e largo nel suo paese pubblica così nel 1991 viaggio in portogallo dove descrive le meraviglie che si nascondono ai turisti distratti in quei paesini sperduti e nota i personaggi illustri che ci hanno abitato i nomi dei fiumi delle montagne che attraversa queste terre marginali sono le preferite del mio turismo il viaggiatore non è un turista è un viaggiatore c'è una grande differenza viaggiare è scoprire il resto è semplicemente trovare il viaggio non finisce mai solo i viaggiatori finiscono Saramagu eretico scomodo lo è sempre stato in tutte le sue riflessioni in tutti i suoi romanzi tanto diventare addirittura in quegli anni un punto di riferimento per tanta sinistra radicale in mezzo mondo ateo confesso comunista già per il memoriale del convento ma soprattutto per la sua pièce teatrale la seconda vita di Francesco D'Assisi aveva subito degli attacchi da parte della Santa Sede ma nel 1991 quando pubblica il Vangelo secondo Gesù Cristo un romanzo molto eterodosso sul Messia scatenò un vero e proprio putiferio nel cattolicesimo portoghese facendo gridare allo scandalo tanto da infuriare l'intera gerarchia cattolica sicuramente è un romanzo particolare dallo stile asciutto che viola il dogma della virginità della Madonna nega la divinità del Cristo rivisita la tradizione evangelica e fa audaci e ampie digressioni descrivendo Gesù come una persona del tutto normale un giovane sempre pieno di paure ed ansie descrive Maria Maddalena come l'unica persona che soffre indicibilmente per la morte del Cristo mentre Maria la madre resta quasi assente in secondo piano e soprattutto descrive un Dio con la D minuscola piccolo superbo più impegnato a mantenere l'equilibrio che ha stabilito con il diavolo che a salvare i suoi figli così la figura di Cristo è vista come quasi l'espressione dell'autoritarismo che imputa al padre le sofferenze del figlio non è però un'opera blasfema si tratta in realtà di una riscrittura della vicenda messianica alla luce di quei Vangeli definiti apocrifi che Saramagu invece riteneva più che attendibili e che confronta ovviamente con i quattro Vangeli sinottici che sarebbero stati scritti molto dopo le lettere di San Paolo dal 70 al 110 dopo Cristo e quindi molti decenni dopo la vicenda di Gesù Cristo e soprattutto con l'interpretazione paolina di quelle vicende più che la fedeltà storica su questa base quindi Saramagu articola questa storia di Gesù a partire da qualche dato storico che lui ritiene attendibile ma che chiaramente è inaccettabile per la dottrina cristiana tra le altre cose Gesù quale primo genito nel romanzo di Saramago ha addirittura otto fratelli partoriti in seguito da Maria la storia ovviamente ce l'hanno già raccontata tutti prima Marco Matteo Luca e Giovanni e poi per tutti i duemila anni successivi un po' chiunque il figlio di Dio si è fatto uomo nel grembo di una nonna di nome Maria sposata a un falegname che è il padre putativo e si chiama Giuseppe come Saramagu scende il figlio dell'uomo sulla terra per redimere gli uomini dal peccato originale muore in croce per loro quindi niente di nuovo se non fosse per quelle variazioni sul tema che Saramagu vuole apportare si comincia intanto con un concepimento molto meno divino di quello raccontato e dipinto nelle varie annunciazioni frutto di un rapporto veramente carnale tra Maria e Giuseppe e non di quella chiacchierata con l'angelo Gabriele si continua poi con Giuseppe che salvato suo figlio dallo sterminio ordinato da Erode verrà tormentato fino alla fine dei suoi giorni morirà in croce a 33 anni per mano dei romani creando un mezzo equivoco con la sorte del figlio sarà appunto Giuseppe sempre tormentato da sogni orribili e angoscianti quegli stessi sogni che morto lui farà il figlio Gesù ma da una diversa prospettiva il ragazzo inquieto lascerà addirittura la casa cosa assolutamente inaudita per un primogenito allora ma tant'è Gesù Gesù cerca la sua strada finisce per mettersi al servizio di un misterioso misterioso personaggio che tutti chiamano pastore facendo con lui il mestiere omonimo cioè pascolare pecore e per quattro anni continua così fino alla prima apparizione di Dio informato di essere legato a doppio filo con la suprema divinità inizia a quel punto la sua vera vita la vita di Gesù le sue peregrinazioni l'incontro con Maria Maddalena una prostituta con cui andrà a convivere e poi farà il lavoro da pescatore o meglio da procacciatore di pesci visti i miracoli della moltiplicazione e tanti lo seguiranno gli apostoli per arrivare alla sua morte cruenta la mattina del secondo giorno Gesù disse alla madre non ho pace né riposo in questa casa resta tu con i miei fratelli che io parto Maria alzò le braccia al cielo piangente e stupefatta ma che significa? che significa? un figlio primogenico non abbandona la propria madre vedova dove si è mai visto? addio mondo sempre peggiore e perché? perché se questa è la tua casa questa è la tua famiglia come vivremo noi se non ci sarai tu? Giacomo ha soltanto un anno meno di me provvederà lui come dovrei fare io in mancanza di tuo marito? mio marito era tuo padre non voglio parlarne non voglio parlare di nient'altro dammi la tua benedizione per il viaggio se vuoi ma io me ne vado comunque e dove vuoi andare figlio mio? non so andrò a Gerusalemme forse a Betlemme per vedere il paese in cui sono nato ma là nessuno ti conosce è buon per me dimmi mamma che cosa pensi che mi farebbero se sapessero chi sono? taci taci che i tuoi fratelli ti sentono un giorno anche loro conosceranno la verità e adesso su queste strade con i romani che vanno a caccia dei guerrieri di Giuda andrà incontro a tanti pericoli i romani non sono peggiori dei soldati dell'altro Erode non mi si scaglieranno certo addosso con la spada in pugno per uccidermi né mi inchioderanno su una croce io non ho fatto niente sono innocente anche tuo padre lo era e vedi che cosa è successo tuo marito è morto innocente ma non ha vissuto ma non ha vissuto da tale lo sai Gesù il demonio parla per colpa bocca tua come puoi sapere che non sia Dio quello che parla per bocca mia non pronunciare il nome del Signore è in vano nessuno può sapere quando il nome di Dio è pronunciato in vano non lo sai tu ne lo so io soltanto il Signore può fare la distinzione e noi non potremmo comprendere le sue ragioni figlio figlio mio dimmi non so dove tu così giovane si è andato a trovare tutte queste idee questa scienza e io non saprei dirtelo forse gli uomini nascono con la verità dentro di sé e non la rivelano solo perché non credono che sia vero te ne vuoi proprio andare sì e tornerai non lo so se proprio vuoi se questo ti tormenta va pure a Betlemme va a Gerusalemme al Tempio parla con i dottori interroga ti illumineranno e poi poi però torna da tua madre dai tuoi fratelli che hanno bisogno di te ah non ti prometto di tornare e di cosa vivrai tuo padre non è campato sufficienta per insegnarti un mestiere lavorerò nei campi farò il pastore chiederò ai pescatori di portarmi con loro in mare non desiderare di essere pastore perché non lo so è una specie di presentimento ciò che dovrà essere sarà e adesso madre mia no non puoi andartene così devo prepararti del cibo per il viaggio denaro ce n'è poco lo sai ma qualcosa si rimedierà prendi la bisaccia di tuo padre per fortuna che ha lasciato almeno quello prenderò il cibo ma non la bisaccia ma è l'unica che abbiamo tuo padre non aveva mica la lebra né la rogna non posso un giorno dovrai piangere tuo padre e non lo avrai l'ho già pianto lo piangerai di più e allora non vorrai sapere le sue colpe a queste parole della madre Gesù non rispose fu dopo che ebbero mangiato tutta la famiglia riunita che Gesù partì si concedò dai fratelli a uno a uno si accomiatò dalla madre che piangeva dicendole senza capire perché in un modo o nell'altro tornerò e poi mettendosi la bisaccia in spalla attraversò il cortile aprì il cancello che dava sulla strada e lì si fermò come se riflettesse su quanto stava per fare lasciare la casa la madre i fratelli quante quante volte sulla soglia di una porta o di una decisione un'improvvisa e nuova motivazione o qualcosa che l'ansia del momento come tale ha raffigurato quante volte ci fa trattenere la mano ci porta a considerare il detto come non detto lo pensò anche Maria e una felice sorpresa le si stava già dipingendo sul viso ma ebbe breva durata perché il figlio prima di tornare indietro posò la bisaccia per terra dopo una lunga pausa durante la quale aveva dato l'impressione di dibattere tra sé e sé un problema di difficile soluzione Gesù passò tra i suoi familiari senza guardarli e entrò in casa quando ne uscì di nuovo alcuni istanti dopo in una mano aveva i sandali del padre taciturno con gli occhi bassi come se il pudore o una malcelata vergogna non gli consentissero di affrontare altri sguardi infilò i sandali nella bisaccia e senza altre parole o gesti se ne andò Maria Maria corse al cancello la seguirono tutti i figli più anziani con l'aria di non dare grande importanza al caso ma non vi furono gesti di saluto perché Gesù non si voltò neppure una volta una vicina che passando assistette alla scena domandò a Maria dove va tuo figlio e Maria rispose ha trovato lavoro a Gerusalemme starà lì per qualche tempo una sfacciata menzogna come sappiamo ma questa faccenda del mentire e del dire la verità è una lunga storia è meglio non azzardare i giudizi morali assoluti perché se daremo abbastanza tempo al tempo arriverà sempre il giorno in cui la verità diventerà menzogna e la menzogna si trasformerà in verità accanto quindi allo scrittore fantastico degli anni della sua maturità si impose l'uomo l'uomo Saramagu quello che rendeva quotidianamente esplicito il suo accanimento contro ogni certezza contro ogni dogma prestabilito o preconcetto le sue dichiarazioni sulla religione come ho detto suscitarono polemiche e controverse sia in Portogallo ma anche all'estero con la pubblicazione poi del Vangelo secondo Gesù Cristo il livello di insofferenza nei suoi confronti toccò l'apice al punto che ricevette delle critiche estremamente violente dallo stesso primo ministro portoghese e il governo portoghese si rifiutò di presentare l'opera al premio europeo di letteratura per il fatto che lo riteneva offensivo per tutti i cattolici a questo punto quindi sul finire del 1992 Saramagu si trovò costretto a dover lasciare definitivamente la sua terra il Portogallo e a riparare in Spagna ma andandosene con sua moglie lo vediamo in quella foto dichiarerà ho lasciato il paese per protestare contro il governo non per rabbia contro il mio Portogallo e si trasferisce si trasferisce definitivamente a Lanzarote l'isola delle Canarie dove in questa bella villa si autoesilia con la sua compagna e traduttrice Maria del Pilar del Rio Sanchez in una casa in cima a una scogliera nel comune di Tias nella zona sud-est dell'isola a gennaio la casa non era ancora finita e i miei cognati Javier e Maria con la partecipazione simbolica di Luis e Juan José mi portarono da Recife un quaderno di carta riciclata pensavano che avrei dovuto scriverci le mie giornate a Lanzarote un'idea che del resto già mi ronzava in testa da tempo non ho mai scritto niente su quei fogli ma è stato proprio così e non per altra via che sono nati i quaderni di Lanzarote venuti alla luce nell'arco di cinque anni è così che Saramago spiegava questa ennesima sua opera letteraria i quaderni di Lanzarote non un romanzo non un'opera teatrale non una raccolta di poesie genere quest'ultimo che abbiamo detto Saramago ha frequentato sporadicamente ma una raccolta una raccolta di interventi scritti sotto forma di diario che iniziò a scrivere proprio in quel 1993 quando si trasferì definitivamente alle Canarie quei diari divennero una vera e propria abitudine e ne pubblicò addirittura cinque oltre a un sesto pubblicato poi postumo e i quaderni sono una raccolta di testi di frasi di pensieri di riflessioni che costituiscono un vero e proprio universo sentimentale in cui traspare tutta la sua vena più riservata e personale scrivere un diario è come guardarsi in uno specchio di fiducia addestrato a trasformare in bellezza il semplice bell'aspetto o nel peggiore dei casi a rendere sopportabile la bruttezza massima nessuno scrive un diario per dire chi è in altre parole un diario è un romanzo con un personaggio solo in altre parole e conclusione la questione centrale suscitata sempre da questo tipo di scritti è credo io quella della sincerità tutto tutto è autobiografia che la vita di ciascuno di noi la raccontiamo in tutto ciò che facciamo e diciamo nei gesti nella maniera di come ci sediamo come camminiamo come guardiamo come giriamo il capo o raccogliamo un oggetto da terra siamo qui e viviamo circondati da segnali e noi stessi siamo un sistema di segnali sembra quasi che Saramagu voglia smentire un pensiero un po' comune quello che scrivere un diario sia un esercizio quasi di narcisismo perché lui ha sempre qualcosa che va oltre la semplice descrizione di un momento o di un evento particolare ma sono anni importanti sono anni importanti nella sua evoluzione perché precedono di pochissimo l'attribuzione del premio Nobel per la letteratura che arriverà da lì a poco nel 98 il piacere profondo ineffabile che è camminare in questi campi deserti e spazzati dal vento risalire un pendio difficile e guardare dall'alto il paesaggio nero scorticato togliersi la camicia per sentire direttamente sulla pelle l'agitarsi furioso dell'aria e poi capire che non si può fare nient'altro l'erba secca rasente al suolo freme le nuvole sfiorano per un attimo le cime dei monti e si allontanano verso il mare e lo spirito entra in una specie di trance cresce si dilata manca poco che scoppi di felicità che altro resta allora se non piangere 3 luglio 1994 vista a distanza l'umanità è una cosa molto bella con una vasta e succulente storia molta letteratura molta arte filosofie religioni in abbondanza per tutti gli appetiti scienza che è un piacere sviluppo che non si sa dove si andrà a finire insomma il creatore ha tutte le ragioni per essere soddisfatto orgoglioso dell'immaginazione di cui si è dotato qualsiasi osservatore imparziale riconoscerebbe che nessun dio di un'altra galassia avrebbe fatto meglio di lui se la guardiamo da vicino però l'umanità tu lui noi voi loro io scusate la parola volgare l'umanità è una merda sì sto pensando ai morti del Ruanda dell'Angola della Bosnia del Kurdistan del Sudan del Brasile di ogni dove montagne di morti morti di fame morti di miseria morti fucilati sgozzati bruciati squartati morti 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 quanti milioni morti fucilati di persone quanti milioni saranno finiti così in questo maledetto secolo che sta per finire dico maledetto e in questo è quello che sono in cui sono nato e vivo per favore che qualcuno mi faccia questi conti datemi un numero con cui si possano misurare solo approssimativamente lo so bene la stupidità e la cattiveria umana e visto che avete messo mano alla calcolatrice non dimenticate di includere nel conteggio un uomo un uomo di 27 anni di professione calciatore di nome Andres Escobar colombiano assassinato a revolverate e a sangue freddo nella nota città di Medellin per aver fatto un autogol durante una partita del campionato del mondo senza dubbio aveva ragione Alvaro De Campos non mi venite a parlare di conclusioni l'unica conclusione è morire e senza dubbio non in questa maniera vedete quindi che i quaderni di Lanzarote meritano una lettura che sono di una agghiacciante ahimè attualità il trasferimento a Lanzarote ha segnato un cambiamento nella sua narrativa i suoi libri successivi ambientati in paesi non specificati sono molto meno radicati nella vita e nella storia portoghesi o nelle strade e nelle intemperie di Lisbona l'elemento dominante della sua narrativa diventa la possibilità dell'impossibile l'idea anche assurda è il punto di partenza ma poi lo sviluppo è sempre razionale e logico e uno dei migliori esempi è il romanzo il romanzo più volte citato considerato da molti il suo capolavoro Cecità uscito per la prima volta in Portogallo nel 1995 e è il racconto appunto di un'epidemia quindi molto attuale un'epidemia che però fa diventare cerchi tutti gli abitanti di una città e con questo romanzo si apre la sua ultima tappa di scrittore quella più critica sulla società di massa sulla globalizzazione sul consumismo sul funzionamento stesso del sistema democratico un romanzo scomodo ma drammaticamente vero che svela i risvolti della natura umana alle prese con la diffusione di un contagio a livello epidemico niente ovviamente di più attuale una riflessione su quanto sia fragile la nostra civiltà e quanto facilmente possa crollare da un minuto all'altro Saramago infatti diceva queste parole che oggi sembrano una vera e propria profezia è la società così com'è con la fame la guerra lo sfruttamento noi siamo già all'inferno con la catastrofe collettiva della cecità totale tutto emerge positivo e negativo è un ritratto di come siamo di chi ha il potere e di chi non lo ha il romanzo quindi diventa una grande metafora dove la menomazione collettiva porta a trasformare ogni individuo in un essere maturo e cosciente una vera e propria parabola che trasferisce sul piano metafisico le ragioni di un malessere generale perché scrive ancora Saramago in un'epidemia non ci sono colpevoli ci sono solo vittime quanto ho sofferto a scrivere questo libro e adesso che ne sono fuori l'unica cosa che vi posso che mi posso e vi posso augurare è che soffriate davvero anche voi è una mattina come tante altre in un luogo in un tempo non meglio precisato ma che potrebbe tranquillamente essere il nostro un semaforo proprio uguale a quello dove aspettiamo ogni mattina diventa verde ma l'uomo alla guida della prima macchina non riparte non riparte perché è diventato cieco e inesorabilmente una cecità bianca senza nessuna apparente spiegazione contagia tutti dal soccorritore del primo cieco al medico che cerca di curarlo a tutti i pazienti dello studio oculistico e via via ogni cieco infettato distribuisce il morbo a tutti quelli con i quali scambia uno sguardo amici familiari conoscenti sconosciuti che incrocia semplicemente per strada è una crisi globale i ciechi vengono deportati in un vecchio manicomio in disuso abbandonati a loro stessi per tutto quello che riguarda le loro necessità ma controllati a vista dall'esercito pronto a sparare a chiunque cerchi di scappare e dentro dentro a quel manicomio si scatena l'inferno perché da ciechi gli uomini diventano come delle bestie il cibo il sesso la semplice sopraffazione diventano le regole di vita sarà terribile anche senza vedere perché si sente e si tocca comunque con mano il profondo orrore e così per istinto di sopravvivenza non certo per intelligenza dal vedere si passa al sentire al toccare all'annusare si riscopano sensi che sono stati sottovalutati o del tutto inutilizzati ma c'è ancora chi vede in quel mondo di occhi spenti ed è una donna e sarà lei la guida il capopopolo di un gruppetto di persone che a un certo punto diventeranno famiglia la cecità stava dilagando non come una marea repentina che tutto inondasse e spingesse avanti ma come un'infiltrazione insidiosa di mille e un rigagnolo inquietanti che dopo aver inzuppato lentamente la terra all'improvviso la sommergono completamente secondo me non siamo diventati ciechi secondo me lo siamo siamo ciechi che vedono ciechi che pur vedendo non vedono la cecità è anche questa vivere in un mondo in cui ogni speranza si è esaurita e le domande dei protagonisti del romanzo sono le domande di ognuno di noi davanti al contagio anche quello di questi tempi la tragedia collettiva sembra senza ritorno è un dramma completo buio pesto seppure sia un buio bianco e anche la ricerca si rivelerà quasi subito una speranza mal risposta accecati i medici i protagonisti sembrano sconfitti definitivamente smettono di nutrire qualsiasi altra aspettativa eppure in queste pagine c'è moltissima umanità c'è l'impatto con l'ignoto c'è il rapporto con l'autorità c'è l'emergenza c'è la risposta militare descritta come sicurezza nazionale uomini e donne obbligati a una quarantena che fa presto ad assumere i contorni di una vera e propria prigionia esseri umani di ogni età rinchiusi in quel manicomio riattato soltanto per separare i sani dai contagiati e poi la soppressione di qualsiasi libertà di movimento diventa repressione la cancellazione di ogni diritto fino al soffocamento quasi completo di ogni dignità umana strada facendo verso la casa della ragazza dagli occhiali scuri attraversarono una grande piazza dove c'erano gruppi di ciechi intenti ad ascoltare i discorsi di altri ciechi a prima vista né questi né quelli lo sembravano chi parlava volgeva infervorato la faccia verso chi ascoltava chi ascoltava volgeva attento la faccia verso chi parlava si proclamavano la fine del mondo la salvezza penitenziale la visione del settimo giorno l'avvento dell'angelo la collisione cosmica l'estinzione del sole lo spirito tribale l'umore della mandragora l'unguento della tigre la virtù del segno la disciplina del vento il profumo della luna la rivendicazione della tenebre il potere dello scongiuro l'impronta del calcagno la crocefissione della rosa la purezza della linfa il sangue del gatto nero il sapore dell'ombra la rivolta delle maree la logica dell'antropofagia la castrazione in dolore il tatuaggio divino la cecità volontaria il pensiero convesso quello concavo quello piano quello verticale quello concentrato quello disperso quello sfuggito l'ablazione delle corde vocali la morte della parola qui non c'è nessuno che parli di organizzazione disse la moglie del medico al marito forse è in un'altra piazza rispose lui continuarono a camminare poco più avanti la moglie del medico disse ci sono più morti del solito per strada perché la nostra resistenza si sta esaurendo il tempo si conclude l'acqua si esaurisce le malattie aumentano il cibo si trasforma in veleno lo hai detto tu stessa ricordò il medico chissà se tra questi morti non ci siano i miei genitori disse la ragazza dagli occhiali scuri e io magari passo accanto a loro e non li vedo è una vecchia abitudine dell'umanità passare accanto ai morti e non vederli disse la moglie del medico è difficile camminare in certe strade soprattutto quelle più in pendenza l'impeto delle acque piovane trasformate in torrente ha scalaventato automobili contro automobili o contro palazzi buttando giù porte svuotando vetrine ci sono schegge di vetro spesso dappertutto schiacciato fra due macchine imputridisce il corpo di un uomo la moglie del medico distoglie lo sguardo il cane delle lacrime si avvicina ma la morte gli mette soggezione fa due passi ancora ma di colpo gli si è rizzato il pelo un lacerante ululato gli è uscito dalla gola il guaio di questo cane è di essere stato tanto vicino agli esseri umani che finirà per soffrire quanto loro attraversarono una piazza dove c'erano gruppi di ciechi che si intrattenevano ad ascoltare i discorsi di altri ciechi a prima vista non sembravano ciechi negli uni negli altri chi parlava girava infervorato la faccia verso chi ascoltava chi ascoltava girava attento la faccia verso chi parlava me ne sono accorto rispose poi il medico il silenzio è sempre il miglior applauso innanzitutto per fare la faccia di questo esigenza